In Italia 3 milioni e 200 mila persone sanno di essere malate di diabete. Un milione di italiani è malato ma non lo sa. Molti altri sono a rischio di sviluppare la patologia. È sulla base di questi dati che è nata la campagna di Federpharma Dia Day per lo screening del diabete, come spiega il presidente di Federpharma Campania, Nicola Stabile. Ci sono tantissime persone che non hanno idea di avere il diabete perché è una malattia sintomatica. Il ruolo della farmacia in questa situazione secondo me è fondamentale. Si afferma la farmacia come luogo di salute. Uno dei dati più preoccupanti, secondo il presidente di Federpharma Campania, è la percentuale di obesi tra gli adolescenti campani, uno dei primi campanelli d'allarme per la possibile comparsa della patologia. Purtroppo noi in Campania abbiamo la più alta percentuale di adolescenti obesi che è il primo indice di una potenziale patologia diabetica. L'iniziativa ha avuto il pieno sostegno di Soresa, la società regionale per la sanità, che proprio a sostegno dello screening della patologia sta portando avanti un progetto internazionale sul monitoraggio del diabete mellito di tipo 2, come spiega il presidente Giovanni Porcelli. Siamo fortemente impegnati insieme a Federpharma a promuovere questa campagna di sensibilizzazione e di prevenzione, non solo per senso civico e non solo perché come Soresa siamo impegnati in un progetto internazionale con dei partners europei per il monitoraggio del diabete mellito di tipo 2, ma anche e soprattutto perché in Campania i costi per il diabete hanno un'incidenza altissima, per cui bisogna fare prevenzione, bisogna farla con quelle organizzazioni che come Federpharma e come i medici di medicina generale riescono a raggiungere il territorio. La misurazione della glicemia è possibile effettuarla gratuitamente ancora sino a lunedì 20 in tutte le farmacie della regione, dove sarà poi compilato con l'aiuto del farmacista un semplice questionario che indicherà a ciascuna persona il rischio di sviluppare il diabete nei prossimi anni. Ci sarà fine a lunedì prossimo, l'ultimo giorno è lunedì, quindi invitiamo le persone a controllarsi perché è importante sia per la prevenzione che per la diagnosi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.